Ehi, sei arrivato Sì Ah, meno male Questa è la prima volta che entri di fatto all'interno dell'Aurus, giusto? Sempre stato nei vari distretti Ah, mi sembra che è la prima volta che entri nel cantiere In effetti, no, nel cantiere c'è vero, ma da ben prima dell'ultimo cambio di navi Ah, è vero, perché poi sei stato dispiegato cos'era al comando centrale, se non sbaglio Sì, al comando strategico della zona Ho capito, ho capito E per il segnale come... Un po' noioso, devo dire, però serviva Sì, effettivamente Allora, a me fa piacere che tu sei effettivamente arrivato Perché hai la possibilità di vedere il cantiere, tutto il lavoro che abbiamo fatto Soprattutto adesso che ce l'ha rilasciato, tra virgolette, la diciassettesima Però ho paura che dovrai ricoprire lo stesso ruolo Eh, lo so, lo so Però sì, dai, fa piacere vedere, perché sai, vedo sempre i nomi delle navi, le tabelle E tutte quelle robe lì Esatto E finalmente le vedo un po' con mano per una volta Cioè, ci tenevo a averti qua prima di rispedirti laggiù Un saluto Penso che, vabbè, magari gli ufficiali non lo sanno Perché ancora non sono stati ragguagliati Anche se siete stati chiamati prima I membri del comando lo sanno E sono finite le votazioni per l'elezione del nuovo ammiraglio E di poco sono stato rieletto io Ma per come siamo strutturati E penso, per come saremo confermati come tipologia di flotta Ma poi entreremo nel dettaglio dopo Eh, ci servirà qualcuno che faccia Praticamente il lavoro che faceva prima Rick Che dunque coordini la flotta dal punto di vista delle risorse umane Esterno e che faccia da tramite Praticamente con Con il comando strategico Con il comando centrale Con Coordinamento Esatto, che faccia da coordinamento Ed essendo che io sono sempre stato legato All'atto pratico Alla parte operativa Sulle navi Anche se Ricoprirò Il ruolo di ammiraglio In realtà non sarò Un ammiraglio Perché L'ammiraglio non sta Dispiegato sul territorio Non sta dispiegato in missione Quindi Ricoprirò il ruolo di comandante Della flotta Tra virgolette Anche se poi Vedrete che non saremo flotta E Rick Che sarà vice ammiraglio In realtà sarà Rappresentante della flotta Con il comando strategico Quindi di fatto Rick sarà l'ammiraglio Agli occhi del comando strategico Io sarò il comandante Della flotta Ok Insomma Riassunti che mi hanno Gabbato di nuovo E sto di nuovo Esatto Sì sì Tu ti sei Quando ci sono state le elezioni Che ti ho detto Guarda Rick Potrebbe essere il caso Che tu venga in cantiere Oppure che ci incontriamo A metà strada Io per lo più Ho bazzicato nella zona Dove eri te Non ero esattamente vicino Ma non ero nemmeno lontanissimo E ti ho detto Guarda ci possiamo incontrare Ti spiego un attimo Cosa che vorrei fare Perché comunque Erano finite da poco Con le elezioni Mi servirebbe qualcuno Con cui coordinarmi Perché comunque Yurex Aveva appena finito la carica E di ruoli di comando Non ne voleva più Giustamente Un anno di ammiraglio Di ammiragliato È stato pesante Esatto Esatto E quindi mi serviva qualcuno Di esterno a tutto questo Ed essendo che il comando Si è fatto la guerra Praticamente con tutti noi E gli ufficiali Che sono qua adesso Sono ufficiali Grazie anche alle promozioni Scaturite dalla guerra Diciamo che te come scelta Sei stata la prima Che ho avuto Non tanto perché gli altri Non fossero al livello Ma perché volevo dargli Un po' di tregua E quindi faceva comodo Incontrarci anche solo per bere una cosa Per lottare un attimo Però Tu sei stato lì A farti i fatti tuoi Io poi vabbè Giustamente ho continuato La licenza Che poi vi racconto Cioè sono stato in posti bellissimi E niente Ti tocca il ruolo Sei stato sollevato Da libero arbitrio E vabbè me ne farò una ragione Ai suoi ordini Mon ammirello Come si dice Buonasera signori Buonasera Buonasera Ammiraglio Ammiraglio Buonasera Buonasera Rientrato da poco Ero già qui in servizio A fare i primi controlli Sulla nave Ah ok Perfetto Io sono arrivato Da qualche ora Ho visto che c'erano già La maggior parte degli ufficiali Cosa che Non mi aspettavo Sinceramente Però immagino Che il primo giorno Da ufficiali Sia Sia abbastanza importante Si cerchi di fare Bella figura E Questa Se non sbaglio È anche la prima volta Che riesco a Congratularmi Di persona Con gli ufficiali Perché La promozione È arrivata Alla rielaborazione Dei meriti Alla fine Delle ultime missioni E quindi Voi siete stati Promossi ufficiali Quando eravamo già In In licenza Quindi Immagino Di dover Praticamente Vi dobbiamo fare Adesso Le congratulazioni Per Per la promozione Però complimenti Per La puntualità Ecco Nei settori Non centrali Lì Si sente un po' Il peso Della guerra Ma Parte quello La ricostruzione Deve comunque sia La metà parola Di supporto Cantina Che abbiamo permesso Di attraccare Accordato Cos'è Come è andata La vostra Di licenza Bene Le soli Le soli cose Ok Almeno Sì 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 No Gli ho detto Basta O vado O vado O ci vado In orizzontale Io ne ho approfittato Per tornare La mia colonia Natia Ho rivisto Famiglia Ma che bello Galatti Gatto Sì Eccoli qua Che fanno L'entrata A sorpresa E non Dicono Niente Sono certo Che volessero Ottenere Ecco qua Appunto L'effetto Desiderato Era questo Buonasera Buonasera Signori Capitano Tenente Comandante Buonasera Benvenuti In lounge È stato Un lungo Viaggio Comandata Un po' Trentito Contrato Qualche Difficoltà Se ne avete Paradise Sono un po' Da rivedere Buonasera Signori Buonasera Tenente Buonasera Buonasera Comandato Il viaggio Bene Bene Sentivo Già Qualche Lamentera Della Paradise Devo E se è d'accordo Purtroppo Va bene Non so se Volete bere qualcosa Volete prendere un caffè Se avete già disfatto I bagagli Se volete Vi diamo Magari qualche minuto Noi intanto Andiamo in In sala briefing Pensate di riuscire A raggiungerci Nel giro di 10 15 minuti Ah si Direi che c'è Il tempo Per un Un drink Che dice Tenente Comandante Non si dice Ma di no Un gin tonic Un gin tonic Via dai Mi accodo Volentieri Per i bagagli Pensemo dopo Ok Ok S-Service S-Service Alle sue manine Capitano Comodoro Ma si vergogna Che col casco chiuso Ho fatto una puzzetta Non lo dica a nessuno Ecco se era sta puzza Di uovo marcio Io pensavo fossero le piante Si sente la puzza da fuori Meglio che non esca All'esterno Io tenevo il casco chiuso Per rispetto a vostro Ah Tenente comandante Ha portato I progetti Della nuova nave Assolutamente Si Allora poi Li consegna L'ammiraglio Così ne discuteremo Ah ok Avete già il progetto Sia progetti Che lo stato attuale Di avanzamento L'ottimizzazione dei sistemi Ah ok No perché io ero rimasto Che eravate ancora in sviluppo Per quello Si è in sviluppo avanzato Ti mancano ancora qualche Manca ancora qualche settore Da definire Ah ok Allora Penso che dovremmo discutere Anche di questo Nella riunione Va bene Allora se Se volete appunto Rifocillarvi un attimo Vi aspettiamo poi In sala briefing Dicevo che Con alcuni ci siamo visti Altri no Però spero comunque Che vi siate divertiti In questa licenza Ci sono state delle riunioni Nelle scorse settimane Alcune miste Alcune solamente Tele Scusate Tramite terminali Però l'importante È che abbiamo discusso Della nuova struttura Interna Alla flotta Elezioni Vaglio delle nuove reclute E tante altre discussioni Alla sessione di oggi Abbiamo rimandato Praticamente Le questioni Più Pressanti E dunque Quelle per le prossime settimane Dalla prossima settimana Massimo Quella dopo Rientreremo in attività Come flotta Ora Noi siamo La ventitresima flotta Ok Però C'è stato un grande cambiamento A livello Della Ventunesima La ventunesima Ha subito Molte perdite Durante gli ultimi scontri O comunque Durante la campagna bellica Contro la Raw Ed è arrivata al punto Di non essere più considerabile Per organico E per infrastruttura Per struttura Una flotta Piuttosto che Dover scalare tutte le flotte Riorganizzare tutti i comandi Hanno deciso Dal comando strategico Dal comando centrale Interflotte Di ridispiegare La ventesima flotta Come flotta logistica La ventunesima Era la ventunesima No Era la ventunesima Era la ventunesima Ah ok Era la ventunesima Era la ventunesima È stata ricostituita come flotta genieri Per la ricostruzione dei settori Esattamente Non sofferti più Nel conflitto con la Raw Ed essendo flotta genieri Comunque genio militare O meglio Adesso è genio civile Prima era mezzo Sono state allocate nuove risorse Anche di ordinamento civile Proprio per andare a colmare Quei risorse Quei buchi che si sono creati Nella nostra infrastruttura Nei ranghi Nelle flotte Insomma per Rattoppare Dove ci sono stati Grossi danni Quindi Saremo ancora La ventitresima flotta Come la ventesima Però saremo interessati Da delle modifiche Ed è principalmente Lo scopo Della flotta stessa Così come noi Anche la ventiduesima E la ventunesima Sono state Riadattate È un attimo difficile Spiegarvela ragazzi Perché qua si parla Proprio di Non essere più Una flotta da guerra Giustamente Non c'è più la guerra Flotte Belliche Offensive L'SJC Ne ha tante Dunque hanno cercato Di tagliare i costi Dove hanno potuto Soprattutto per Personale Risorse inviate Richieste Capitali Cos'hanno deciso di fare Spostare la nostra flotta Da reparto Offensivo Difensivo A reparto Esplorativo Questo significa Che all'atto pratico Non ci sarà più La necessità Di tutte queste navi Non ci sarà più La necessità Di tutta questa Infrastruttura E Ci verrà imposta Una struttura Interna diversa Ho avuto la conferma Negli scorsi giorni Deve arrivare Ancora tutto Tramite canali ufficiali Però vi posso dire Che non siamo più Una flotta Offensiva Siamo stati Riproposti Mettiamola così Riallocati Come flotta Esplorativa Questo significa Che partiremo In una missione Penso che inizieremo Con una missione Annuale Ancora questo Non è stato discusso Ma penso che Il dispiegamento Sarà annuale Per La mappatura Di sistemi Limitrofi Alle zone Conosciute Questo non significa Che andremo In spazio Inesplorato Da Gli esseri umani Andremo in Spazio inesplorato SJC Ok È molto diverso Perché Spazio inesplorato SJC Significa che L'SJC Non c'è stato Non che in altre persone O altre fazioni Non ci possano essere state A lato pratico Ci verrà chiesto Di Riunificare Tutto il personale Sotto un unico equipaggio E questo equipaggio Di riunificarlo Tutto sotto una nave Ora Prima di passare Al progetto stesso Della nave Perché è già in cantiere E in sviluppo Come ci diceva prima Il tenente comandante Morris Vorrei parlare un attimo Di qual è lo stato Del cantiere Perché vi ricordo Che era stato messo in mano La diciassettesima Lo stato del cantiere È perfetto La diciassettesima Non solo ce l'ha lasciato Meglio di come Gliel'abbiamo lasciato noi Ce l'ha riorganizzato E ce l'ha rifornito Siamo stracarichi Di Componenti Gas E materie prime L'unica cosa Che ci manca Ma che vedremo dopo È deuterio E qua molti di voi Probabilmente saranno Sorpresi Non il comando Però molti di voi Saranno sorpresi Perché il deuterio È un materiale Che noi Un combustibile Un materiale Chiamiamolo come Come meglio Crediamo Materiale che noi Non abbiamo mai lavorato E poi entreremo Un attimo Nei dettagli Dopo Magari Lascio discorso A chi Ha avuto già a che fare Con sistemi a base Di deuterio Vi dico che Per la nave Che costruiremo Non ci mancano Le risorse Che siano grezze Che siano semilavorate Che siano già prodotti finiti Ok Tenente comandante Direi che è il caso Di attivare la proiezione Questa Nave qua È una Nave capitale La classe È ancora inedita Ovviamente Essendo di nostro sviluppo Non è stata codificata Ancora sotto Unica classe Dal punto di vista Tecnologico È all'avanguardia Alle ultime Tecnologie Implementate Dalla SJC E vi dirò Che alcune Sono ancora Forse in fase Di approvazione Dobbiamo scegliere Il nome E questo È tutto ciò Che vi posso dire io Per il resto Lascio la parola Al tenente comandante Morris Prego Allora Come vedete La fase di progettazione È Quasi volta Alla fine Poi Dedicheremo il tempo necessario Anche alla programmazione Di tutti i sistemi Attualmente La carnatura esterna È Pronta E ottimizzata Direi Al 80% Abbondante Per gli interni E i sistemi Mancano La zona reattori L'hangar posteriore Stoccaggio E poi poca altra roba In realtà È in progettazione Anche In parallelo Uno shuttle Per i voli Metari Che andrà Affiancato Alla nave Che prevederà Che prevederà Anche un laboratorio Al suo interno E Che dire Come diceva giustamente L'amiraglio Ancora manca Manca il nome Abbiamo qualche proposta Da Da Vagliare Per i sistemi d'arma Stiamo valutando ancora Quali effettivamente Implementare Ma Saranno sistemi In gestione Singola Da parte di operatori Dedicati A tal proposito Visto che Il comandante Il comandante Neckar Ne ha parlato Dei lunghi viaggi Il capitano Maxen Insieme alla Ricerca e sviluppo Ha sviluppato appunto Un nuovo tipo di Sistema Per Attivare L'ipercorsia Attraverso La nave stessa Se ne può parlare Penso Penso di poter Intercedere io Dato che Ho seguito In parte Lo sviluppo Di questo Condensatore Come sapete Noi abbiamo La possibilità Di creare Dei ponti Praticamente Di percorsia O meglio Di forzare Delle entrate Nell'ipercorsia Utilizzando Degli acceleratori Relativistici In prossimità Dei punti Di minimo Energia In alcuni settori Tramite lo sviluppo Del condensatore Quantistico Che è stato Appunto sviluppato Dal capitano Maxen Coadiuvato Dal reparto Di ricerca e sviluppo Della SJC Abbiamo la possibilità Di sovralimentare I nostri FST Per sviluppare Quantità Di energia Necessarie Al fine di Praticamente Creare un nuovo Punto Di minimo Energia O meglio Di energia Minima All'interno Del sistema In prossimità Di fatto Del nostro FST Questo significa Che avremo Al costo In gente Di carburante In questo caso Deuterio Una produzione Di energia Molto alta Che ci permetterà Di forzare L'entrata In ipercorsia Tutto questo A livello strutturale È stato integrato All'interno Della nave Infatti Come potete vedere La nave è sviluppata Molto in lunghezza Questo perché All'interno Della nave Stessa Sono stati Integrati Dei simil Acceleratori Relativistici Che appunto Lavorano in tandem Con il condensatore Quantistico Per la sovralimentazione Degli FST È molto importante A questo punto Gestire bene Il carburante Avete capito Che il reattore A uranio Quindi la fissione Di per sé Non verrà più Utilizzata Se non per Innescare Le fusioni E questo Ci garantisce Comunque L'utilizzo Di un carburante Che è più efficiente Dal punto di vista Energetico Ma ci limita Molto Ad una sola Fonte di energia Che appunto È il deuterio Dovremmo valutarlo Molto Con il reparto Logistico E in generale Con la ricerca E sviluppo In questo caso Il capitano Maxen Fa da tramite Perché ha seguito Lo sviluppo E l'implementazione Di queste tecnologie Dalla nascita Praticamente Non dalla nascita Del capitano Dalla nascita Della tecnologia Stessa E appunto Dovremmo Valutare Proprio dalle prime Volte Che impiegheremo Questi sistemi Il consumo Energetico O meglio Il consumo di carburante Per fini energetici Perché comunque Non voglio dire Che sia un benchmark A questa nave Perché I propulsori Sono testati I reattori Sono testati I processi Di produzione Di fusione Sono testati Quello che non è stato testato È l'impiego Come Propulsione E fornitura energetica Su lunghe tratte Che appunto Dovremmo Andare a testare E raccogliere dati E fare Tutta questa parte Esplorativa Anche da quel punto di vista Capitano Se ho mancato qualcosa Aggiunga pure Capitano Max No negativo Ok Quindi una domanda Sorge spontanea Però Ammiraglio Questa nuova tecnologia Che stiamo andando Ad applicare Creerà problemi A livello Di sull'escaldamento Visto La sovralimentazione Allora È possibile È possibile Sulla nave Sono stati Inseriti Una serie Di heat sink In zone strategiche Soprattutto Attorno alla zona Dove il calore Viene generato Molti dei condotti Sono collegati A radiatori Che danno Verso L'esterno E soprattutto Tramite Medium Di Trasmissione termica Quindi non è che Irradiamo Semplicemente Nello spazio Sì Irradiamo Ma abbiamo anche Ad esempio Liquidi Refrigeranti Che fanno Da intercapedine Tra Spazio E Nostri Sistemi Di Refrigerazione È un attimo Da valutare Anche questo Perché Sulla carta La nave Ha una Dissipazione Termica Apprezzabile E Impiegabile Anche sotto Stress Bisogna Vedere Come collaboreranno I sistemi Visti sotto Forma Tutt'uno Perché È possibile Che ci siano Processi Antagonisti Interni Alla nave Che possano Effettivamente Andare a causare Un accumulo Termico Soprattutto Vi ricordate Gli scudi No Sì Ecco Qua c'è sicuramente Qualche addetto scudo Che ha visto Davanti ai suoi occhi La vita Passargli Per via Del Surriscaldamento Scudi Ecco Io non so Come sia andata A finire Questa Questa questione Ragazzi Sappiate Che Gli scudi Non hanno causato Problemi Sono a noi Ma molte flotte Quindi L'SJC Il reparto Ricerca e sviluppo Insieme al produttore Principale Di Sistemi Difensivi Si è messo A tavolino Per discutere Di queste Problematiche Perché Di fatto Hanno causato Molti danni All'interno Delle nostre flotte Questa era Una parentesi Aperta e chiusa Proprio perché Parlavamo Di dissipazione Termica In realtà Vorrei Con il suo permesso Riacanciarmi A questo discorso Perché al corrente Anche noi Di questa Problematica E consapevoli Della Recente vita Di questa Nuova tecnologia Abbiamo previsto Una progettazione Dei corridoi Specifici Di manutenzione Che andranno Proprio A interagire Con questi Nuovi sistemi Ah benissimo Tra infatti Un reparto Interno Nave Specializzato Per la manutenzione Tutta la nave Ma anche Lo specifico Di queste nuove Sistemistiche Il cantiere A posto Cioè La diciassettesima Ce l'ha lasciato In condizioni Immacolate Ok Quello che dobbiamo fare E purtroppo Qua sono ancora in attesa È ridispiegare le navi Cioè Probabilmente Ci arriveranno X destinazioni Per X nave Noi dovremo preparare La nave E lanciarla La fortuna è Che dovremmo lanciarle Tutte in i percorsi Quindi cioè Si parla di portare La nave Da punto A A punto B Che è Il gate Il Railgate Il railgate E Programmarne Il lancio E aspettare La conferma Di arrivo Potremmo vedere Come ultimi sprazzi Alcuni I nostri colleghi Di altre flotte Che vengono qua Fanno il rifornimento Se ne vanno Però poi Una volta che noi Lasceremo il cantiere Passerà in gestione Alla ventesima Che lo utilizzerà Come punto d'appoggio Praticamente Essendo che Siamo in un punto strategico Ci sono molte risorse Con il nostro benestare Una volta che avremo utilizzato Queste risorse Lasceremo il cantiere In mano Alla ventesima Perché lo utilizzerà Per le loro operazioni Questo non significa Che il cantiere Ci viene strappato Cioè Quando noi torniamo Lo utilizziamo Come meglio ci pare L'unica cosa è che Nell'ottica Della condivisione Della collaborazione Con le altre flotte Questo diventerà Un porto Interflotte Ok Poi è proprio Ottimo Per la missione Della ventesima Come vi menzionate Quella di Ingegneri In quanto si trova Proprio nelle zone In cui il conflitto È stato più acceso Eh sì Se vi ricordate Quanti salti abbiamo dovuto fare Noi per arrivare alla frontiera Relativamente pochi Eh E quindi C'è C'è questo Io direi che Possiamo prenderci Magari ancora una settimana Per Valutare Come Far arrivare le persone Quando Ma vi direi che possiamo Già iniziare a diramare Gli avvisi Cioè di rientrare in porto Così Alla peggio Chi arriva in ritardo Arriva tra due settimane Ma è pronto Subito per Disfare i bagagli E mettersi a lavoro La maggior parte del personale È già formato Per lo meno È esperienza di combattimento È esperienza di volo Sa come si sta su una nave Quindi Per molti di noi Questa sarà ancora Forse un'estensione Della licenza Soprattutto per noi Ufficiali Membri del comando Ma ci saranno Le reclute Ci sono I graduati Di Grado inferiore Che devono essere Addestrati E a questo punto Direi Dato che qua Ci sono molti membri Che sono a capo Di un reparto particolare Direi Di iniziare a pensare Su come organizzare Il lavoro All'interno Del vostro reparto Da parte mia Ammiraglio Avete carta bianca Fatemi sapere Cosa volete fare Non fatemelo sapere Se secondo voi È una cosa Che può essere inserita All'interno Della nostra routine lavorativa Senza particolari accorgimenti Non c'è bisogno Che mi fate un documento Non mi mandate lettere Non vi preoccupate Voi fate Poi se c'è da ragguagliarmi Su qualcosa Mi mandate una lettera Mi venite a bussare In ufficio Tanto noi siamo qua Ok Adesso io e Rick Ci dovremmo mettere in contatto Con il resto delle flotte Aggiornare su quello che faremo E iniziare a recepire Un po' di ordini Però vi direi Che se Nel giro di due settimane Iniziamo i lavori Quindi Avremo magari Le destinazioni Delle varie navi Le possiamo iniziare a mandare Vogliamo organizzare Della logistica interna Per concentrare Le risorse in un punto Per poi facilitare La costruzione Ad esempio La butto lì Questa nave Potrebbe tranquillamente Essere costruita In un Olympus Sì Quindi potremmo iniziare A concentrare Le nostre navi Di linea Le cargo di linea Potremmo iniziare A concentrarle Verso le Olympus Predisporre delle squadre Di logistica Che facciano da spola Avanti e indietro Servire anche una squadra Che si dedichi All'estrazione del deuterio Esatto Per il deuterio Per il deuterio Dobbiamo sentire Se magari farcene Arrivare un carico Insieme al nostro Perché non Non so Ancora la parte Già raffinato Intende? Già raffinato Sì Ok Perché allora Noi non abbiamo L'autorizzazione Al trasporto ancora Bisogna che Membri del comando E gli ufficiali Facciano il corso Di aggiornamento Per il trasporto Di materiale Materiale pericoloso Tra virgolette Che abbia quel codice Sì Sulla nostra scrivania A mia del commodore È arrivato Un progetto Per una versione Della freia Adatta A deuterio Ah ok Adatta al trasporto Sì perché Comunque La nave A parte alcune schermature In punti sensibili Bene o male Penso che sia già Adattabile Facilmente Però c'è da fare Proprio la formazione Sul deuterio Di per sé Come materiale E quindi Ammiraglio Se poi vogliamo Andare in missione E fare il rifornimento De stazione Raffinazione Di rifornimento La nave Bisogna per forza E avere L'epipaggio Formato Formato Sapere di cosa Stiamo parlando Di come si tratta Cioè per quanto Ne sappiamo Una volta Che ci cade Che ne so Una boccetta Dico lì La butto lì Una boccetta Un blister Quello che potrebbe essere Cosa dobbiamo fare Dobbiamo chiamare La donna del pulizie O dobbiamo Scappare Evacuare la nave Quindi c'è da fare Ancora la formazione Ma penso che Sarà fatta in e-learning La temperatura ambiente È inerte Ma bisogna vedere All'interno dei sistemi Sicuramente lì Serve più Una specializzazione Più adatta Eh appunto E poi c'è tutta la parte E a proposito Servirà anche Sviluppare Dei miner Che possano Essere adoperati Anche per l'estrazione Del deuterio Eh insomma Ci sono molti dettagli Sul deuterio Che devono essere Ancora fugati E chiederò Ciao Fabrizio Chiederò Buonasera Buonasera Bentornato dalla licenza Chiederò Un po' No no Tranquilli Vimbro e poi Vi posso ascoltare Bah tranquilli Non ti preoccupare Chiederò Che ci venga Mandato tutto Il materiale formativo In modo tale Che poi Ce lo organizziamo Noi internamente E lo rendiamo Fruibile alla truppa Dal punto di vista Coordinazione L'SJC Cercherà di passare Di ogni informazione In suo possesso Che sia Da Da spedizioni precedenti Non sotto L'SJC Perché come vi ho detto Non ne hanno fatte In questa zona Ma si sa Di esploratori Gruppetti Che sono andati O anche solo Da satelliti Automatici Inviati In passato Da altre agenzie spaziali Però Ci sarà Molto da vedere Una volta sul posto Sì Avremo degli obiettivi Specifici Da perseguire O Sceglieremo Noi sul campo Amiraglio Allora L'idea C'è stato detto Esplorare Catalogare E Mappare Quindi Noi mapperemo Ci daremo Magari Un obiettivo Di anni luce Di sistemi E diremmo Arriviamo laggiù Dobbiamo mappare La Rotta Più economica Dal punto di vista Del carburante La rotta più veloce E nel mappare Cioè scusate Nell'attraversare Catalogheremo Scriveremo I dettagli Dei sistemi Estrapoleremo mappe E comunicheremo Tutti questi dati Cartografici All'SJC Dunque Vi direi che Se non avete Altre domande Se volete aggiungere qualcosa Fate pure Vi lascerei A chi è arrivato da poco Vi direi Andate pure a disfare i bagagli Tutti gli altri Se volete iniziare A mandare I messaggi I vostri sottoposti Prego Fate pure Se avete bisogno di me Mi trovate in ufficio Per adesso Rick Andiamo Che dobbiamo iniziare A fare le nostre chiamate Sì signore Va bene Se non c'è altro Direi che Per questa prima Riunione Della Della ventitresima flotta Abbiamo concluso Molto bene Va bene Buon riposo A chi è appena arrivato E buon lavoro A chi rimane A presto Grazie 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 a tutti Grazie a tutti